buongiorno a tutti e benvenuti nella seconda puntata della serie di stardewallee perfetto nella precedente puntata abbiamo trovato anche dei mix di seme perfetto adesso abbiamo da bere alle nostre piante e questo gioco è fantastico perchè ho letto nella wiki che c'è la miniera si può avere la fidanzata e robe varie intanto andiamo in paese subito dopo il paese andiamo a vedere se veramente c'è la miniera ho letto anche nella wiki che si inserpa sopra questi termini si trova qualcosa questo è un lost book un libro rosco detto all'italiana allora questo gioco si fonda si fonda si fonda più o meno sull'agricoltura ecco sul comprare i semi coltivarli e poi venderli perfetto io direi di andare subito dopo in un euro quanti soldi abbiamo? 500 quanto costano i semi? voglio capire non tanto parliamo non tanto parliamo ci proverei il collegio facciamo le patate che ho letto nella wiki che costano un botto e scostano un botto però danno veramente un botto un botto di roba andiamone subitissimo a piantare quando ci mettono? 6 giorni a crescere perfetto zappiamo e ci mettiamo le nostre patate sbagliate 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 no 10 4 2 3 4 5 6 7 8 poi ci facciamo un altro 8 sbagliate 9 10 10 opla eccoci qui perfetto già andiamo in paese direi di vendere intanto questo questo vendiamo un po' questo tutto questo ci serviranno chiaramente sono del legno e della roccia perfetto questo non è vero non è vero è vero questo è vero se non sbaglio, una maniera è verso l'alto e per la canna da pesca bisogna andare verso il basso mare ho detto nella wiki meno male che ci sono le wiki se no è un casino le wiki sono la cosa che ci salva la nostra vita della clay, attenzione la clay è molto importante allora, credo che sia il carpentiere adesso robin eccoci oddio, chi è questo qua? si può aggiungere anche da qua? no, la risposta è no perfetto visto che adesso non abbiamo ancora sblocato la miniera direi di andare subitissimo già alla canna a prenderla a canna da pesca però nella wiki non c'era scritto che c'era questo qua che minava strano eccoci qua arrivati da pierre si, pierre allora vediamo se ci sono delle missioni non ci sono missioni quest'oggi sentite questa musica calma molto calma molto bella insomma perfetto andiamo a casa direi di dormire quanto c'è? 60 g 60 dollari beh noi li chiameremo per ora dollari però sono comunque g annaffiamo il nostro stupendo orto molto carino e simmetrico costruisco Vabbè io direi di fare sveglia dormi sveglia dormi sono quasi pronti le nostre amichette credo che domani o dopodomani le nostre partnership saranno non c'è però molto non c'è eccoci qua belle e pronte i nostri panci i nostri 15 panci i nostri 13 i nostri 14 panci più uno di argento che ovviamente vale di più a sonno di logica credo che vaga di più perché io questo gioco proprio l'ho aperto e ho cominciato a fare il video quindi non so ho soltanto sbirciato 15 minuti sulla wiki però insomma la wiki è tutta un'altra cosa ok tutte cose che serviranno ovviamente quanto mi hanno dato? 533 più i 70 i più i 70 che ho guadagnato faranno 605 perfetto le patate ci vorranno ancora un po' perché sono piantate di un giorno perfetto io direi di andare a vedere se ci va la canna la pisca il vecchio si guarda guarda cosa vedo questi vedi sernicelle allora dice di donarla al museo però ce lo teniamo ancora un attimo eccoci ma è lui quella della canna da pesca l'ho letto nella wiki però non lo saprei e nella wiki c'è anche scritto che se le persone le cerchi al banco di lavoro se le trovi in giro dovrai aspettarle il prossimo giorno perfetto io direi di concludere qui iscrivetevi lasciate un like o un commento lasciate un like e un commento e ciao ragazzi ciao